benvenuti benvenuti cari amici di questo nuovo video oggi vogliamo parlare naturalmente di terra luna che ci sono importantissimi aggiornamenti ma non solo anche di shiba inu infine sesus per cui iniziamo subito da quello che sta avvenendo all'interno del mondo cripto oggi synthetics più 9 per cento quindi una parte o che dell'alco in serie svegliata mentre un'altra parte sta continuando su dump naturalmente vi ricordo che l'alco index in questo momento è a 88 quindi siamo a livelli molto ma molto alti il dump come più volte ho detto dal mio punto di vista deve ancora arrivare quindi attenzione ok sostanzialmente sull'alco e ve lo sto ripetendo da tantissimo tempo sul mensile siamo a 69 quindi stesso identico ragionamento sull'annuale parla 35 quindi inizia diventare interessante perché stiamo per entrare all'interno del bitcoin season vi ricordo che bitcoin season sia quando si raggiunge almeno un livello di 25 o inferiore andiamo a vedere quello che sta avvenendo su bitcoin in questo momento siamo a 20 mila dollari quindi attenzione perché siamo andati a prendere il supporto addirittura abbiamo fatto 19 mila 838 dollari ora io ho detto come secondo me ci sarà una risposta probabilmente sì perché anche dovessimo andare in questo momento probabilmente sotto i 20 mila dollari nuovamente visto anche quello a cui stiamo assistendo a livello globale secondo me comunque ci sarà un piccolo rebound rebound che potrebbe arrivare in zona 21 mila dollari però poi successivamente perdere ok quello che supporto dei 20 mila per cui attenzione naturalmente vi ricordo che abbiamo perso anche questa trend line ok ascendente è secondo me la perdita dei supporti 20 mila non dico che seminente però molto ma molto probabilmente visto quello a cui stiamo assistendo a livello globale andiamo a vedere anche bitcoin e scusate andiamo a vedere anche terra luna classic perché in questo momento prezzo nominale di 1200 da 2 e i volumi sono sensibilmente diminuiti siamo a 29 punto 86 per cento in meno rispetto al giorno di ieri però possiamo ritenersi soddisfatti perché nonostante ok questa diminuzione di volume che è sensibile tra luna rispetto a ieri ha perso solo il 2 per cento quindi ottimo finora quindi sono stati stacati il 2 punto 61 per cento della total supply quindi in totale 180 miliardi e soprattutto secondo me questo tweet ok interessante perché binance sembra stia testando ok quello che il codice ok di barn dell'1.2 per cento naturalmente se esso dovesse entrare in vigore non dico che potremmo fare un dcx nei breve termine però sicuramente sarebbe un pump molto ma molto interessante ed è per questo che io sto marcando a uomo terra luna vi ricordo anche i barman in questo momento siamo sostanzialmente sempre a 3 miliardi ok e 62 milioni per cui si è bruciato pochissimo però però che cosa vedo vedo lunatics come sempre abbiamo posto 1 miliardo e 6 mxc ma soprattutto ovviamente binance 32 milioni ma troviamo anche gli italiani ok quindi vi invito a seguire anche la comunità italiana lung community italiana non sia un gruppo twitter che un gruppo telegram e hanno barnato finora 3 miliardi e 7 per cui cerchiamo di sostenerli ok assolutamente perché lì danno tantissime informazioni primo elemento e secondo secondo elemento stanno contribuendo al barn quindi se effettivamente te la luna andrà a salire sarà anche grazie al loro aiuto quindi questo è il loro twitter se volete vi potete seguire naturalmente seguitemi pure a me e poi un altro tweet molto interessante secondo me è il seguente perché abbiamo visto come è stata implementata la versione 22 attenzione 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 perché la versione 23 potrebbe arrivare a partire da dicembre 2022 e la versione 24 a partire da giugno 2023 quindi secondo me il tutto sta diventando molto ma molto eccitante per quanto riguarda terra luna poi un altro elemento molto interessante seguente perché sembra che coin stia anch'esso sostenendo terra luna e potrebbe fare terra luna un 10x nel giro di poco tempo guardate qui questa chart questa è luna contro bitcoin e questo è quello che potenzialmente potremmo aspettarci e questo era invece btt contro bitcoin e guardate questo dump e successivamente che cosa fece btt quindi praticamente andò a zero quasi raso il suolo guardate qui le due chart e successivamente btt esplose qui eravamo a febbraio 2021 ora io non sto assolutamente affermando che questa verrà però guardate anche le market cap tra luna eravamo a 569 milioni btt eravamo a 272 milioni quindi diciamo che paragonando che le market cap sembra molto molto interessante il tutto andiamo a vederci anche quello che il prezzo di luna in questo momento siamo a 12.566 ok c'è stato un piccolo scarico bene naturalmente abbiamo supporto l'abbiamo messo a 11.000 quindi secondo me luna potrebbe fare anche un movimento di questo tipo e attenzione perché se effettivamente al 12 settembre verrà implementato il barn quello che mi aspetto è il raggiungimento di questa resistenza che sui 15.296 che avevamo già raggiunto in data 29 di giugno ora andiamo a vedere Shiba Inu perché anche qui ci sono importantissime notizie sembrerebbe sia stata annunciata ok la data del lancio di Shiba Eternity quindi del play to game a partire ok da settembre 2022 ed essa è stata annunciata dal suo sviluppatore Volk inoltre noi sappiamo già che in Vietnam diciamo c'è stata la testnet ok di questo gioco naturalmente ricoprire tutto il globo in questo gioco è difficile però secondo me negli anni assolutamente questo gioco diventerà virale tra l'altro vedete qui come vi avevo già mostrato quindi sono sostanzialmente degli NFT delle carte simili praticamente a Yu-Gi-Oh non so se ci giocavate ok quando eravate bambini e potete sfidare i vostri amici in tutto il mondo quindi in particolare shibisti quindi in particolare Shiba Inu 1240 in questo momento perdiamo la media a 50 giorni e quindi attenzione perché secondo me Shiba Inu visto l'alco index molto molto alto in questo momento abbiamo maggiori probabilità ok di un eventuale retest sui 1000 ok questa è un po' la media quindi sarebbe almeno 17 per cento rispetto a un ritorno sulla vecchia resistenza dei 1700 che sarebbe un più 38 per cento in concomitanza anche della media a 200 periodi quindi attenzione per chi sta dando shib naturalmente lungo termine rimango più che bullies su Shiba Inu infine andiamo a vedere anche Seisius 1,7$ quindi praticamente l'alcoin che oggi pompa più di tutte per il vi ricordo sul settimanale Seisius ha perso davvero ma davvero tanto guardate qui anche i volumi sono sensibilmente diminuiti meno 7 per cento rispetto a giornate ieri quindi che cosa abbiamo visto oggi tantissimi acquisti però dal mio punto di vista ok Seisius potrebbe avere una piccola risposta magari anche sulla media a 50 giorni però attenzione perché sostanzialmente Seisius è in bancarotta quindi mi aspetterei in questo momento facilmente un ritorno anche addirittura sui 20 centesimi come primo supporto abbiamo i 0,66 vedremo se Sel effettivamente andrà a riraggiungere questi livelli quello che mi aspetto anche qui è eventuale eventualmente un pump fino alla media 50 per poi prendere e ritornare giù per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire il like iscriviti al canale e ci vediamo presto